Domenica 18 di giugno Le notizie del TG Ora taglieggiavano imprenditori 6 persone arrestate a Napoli nel quartiere di Miano la polizia di strago dove il commissario di autoscambia sdeggeva l'impolizzazione della squadra mobile partenopea con la parata della gente del reparto prevenzione crimine campagna dopo un'articolata indagine tesa all'individuazione dei soggetti operanti nel territorio di Miano nel campo delle estorsioni hanno dato l'esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Lidia di Napoli nei confronti di 6 persone Alessio Peluso, 24 anni Gennaro Ruggero, di 48 anni Luigi Mango, di 24 anni Gianluca Annunziata, 26 anni Francesco Alter, di 36 anni Giuseppe Carrano, di 30 anni tutti pregiudicati e affiliati al gruppo camorristico dei Nappello attivo nel quartiere incidente mortale sull'asse mediano all'altezza dello svincolo di Lago Patria dove uno straniero è stato investito e ucciso da un'auto dell'aeronautica militare il tutto è successo alle 6 del mattino quando l'auto dei militari era diretta verso Giuliano per poi proseguire verso l'autostrada da quanto appreso l'uomo camminava sulle superstrada e non è stato visto dai militari a causa della scarsa illuminazione sul posto le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilevi del caso continuava a perseguitarla in chat con minacce di offese non contento la picchiava a volte anche davanti ai figli è stato arrestato un trentontenne a casella mare di saggia con l'accusa di malfattamenti appartamenti in famiglia aggravati l'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dai carabinieri della stazione Stabiese ed è stata emessa dalla GIP della Tribunale di Torre Annunziata l'indagine è stata condotta dalla procura Oplottina ed è cominciata nel 2014 grazie alla denuncia della donna emergono ulteriori dettagli sul centro estetico e di massaggi abusivo di Gragnano provincia di Napoli sottoposto a sequestro amministrativo dai carabinieri i migliori dell'arma si sono appostati nelle vicinanze del centro prima di effettuare il blitz e hanno bloccato un uomo appena uscito che ha subito messo il fatto sesso al suo interno dietro compenso con una dipendente dell'esercizio commerciale approfonditi accertamenti eseguiti dai carabinieri hanno permesso di affurare che la donna si offriva volontariamente e che nessuno ne favoriva o ne sfruttava la prostituzione il centro operava senza alcuna autorizzazione nei locali del politico universitario di Napoli aveva rubato delle borse di due stupentesse poggiate su alcune serie di locali comuni i portafogli contenenti qualche decina di euro e documenti il grande dorso 24 anni di Mater Dei già noto alle forze dell'ordine era con le mani nelle borse quando è stato un sorpreso da alcuni studenti nel frattempo i carabinieri del posto fisso dell'ospedale stavano pattugliando a piedi in quella zona e hanno tratto in arresto il 24 anni un allevamento abusivo di cavalli con animali malati e denutriti è stato sequestrato dai carabinieri che hanno denunciato il titolare 51enne l'operazione dei carabinieri della stazione di Striano e della stazione carabinieri forestali di Roccarainola insieme con il personale del dipartimento veterinario dell'Aso del Napoli 3 Sud di Ottaviano l'allevamento di Equini era stato realizzato senza alcuna autorizzazione amministrativa o sanitaria da un 51enne di Striano in un terreno di sua proprietà è stato firmato a Napoli un protocollo di collaborazione tra le città di Napoli di Assisi per la valorizzazione del presepe e dell'arte presepiale i due sindaci Luigi De Magistris e Stefania Proietti hanno sottolineato il valore dell'impegno assunto che va oltre la valorizzazione del presepe inventato da San Francesco e lo sviluppo di quest'arte assai diffusa nelle due città ma che si colloca anche come stimolo al possibile riconoscimento del punto a Napoli un protocollo di collaborazione tra le città di Napoli di Assisi per la valorizzazione del presepe e dell'arte presepiale i due sindaci Luigi De Magistris e Stefania Proietti hanno sottolineato il valore dell'impegno assunto che va oltre la valorizzazione del presepe inventato da San Francesco e lo sviluppo di quest'arte assai diffusa nelle due città ma che si colloca anche come stimolo al possibile riconoscimento del presepe come patrimonio dell'UNESCO e con questo il momento è tutto grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Telecafine News